Il parco fluviale di Teramo, un anello verde e lussureggiante che circonda la città, sarà interamente riqualificato con un progetto da 8 milioni di euro. Intanto è appena stato inaugurato il primo lotto da 600 mila euro, che prevede l'abbattimento di un vecchio edificio che sarà trasformato in un moderno ristoro. Soddisfatta l'assessore comunale all'ambiente Martina Maranella. È un momento di riconnessione con la città e di riappropriazione di spazi verdi nella tutela e nel rispetto, chiaramente, dei luoghi. Lavoro che parte da molto lontano, c'è una progettualità, a differenza di quello che alle volte si cerca dall'opposizione di dire, c'è un progetto, una progettualità che vede Teramo al centro di ogni obiettivo e questo è uno di quelli. Una volta completato il progetto, il Parco Fluviale di Teramo si connetterà alla città attraverso quattro vie d'accesso, Ponte a Catena, Via Vecchia, Via Vecchio Mattatoio e Via Cona. Un luogo, questo, sempre più frequentato dei Teramani e sul quale il Comune ha deciso di investire. Per la prima volta nella storia esiste un progetto di valorizzazione del Parco Fluviale, che ne rispetta la natura, l'identità, ma lo valorizza come infrastruttura ambientale, hub di riferimento. Di fatto lo è già stato nel corso di questi anni, teatro di iniziative, di attività che l'hanno fatto conoscere e a cui è stata legata un'attività di cura e di manutenzione. Oggi facciamo un passo avanti straordinario, dimostrazione del fatto che tutta la programmazione che abbiamo messo in campo non è un libro dei sogni. Noi il sogno lo stiamo scrivendo, con l'attività quotidiana, con progetti finanziati che stanno partendo e che riguardano veramente quelle che sono le potenzialità per troppo tempo inespresse, non sviluppate, della nostra città. Il progetto di riqualificazione del Parco Fluviale di Teramo sarà realizzato da Casa Atelier Architetture, uno studio tecnico costituito da sole donne. Abbatterete questa casetta e come la ricostruirete? La nuova casetta sarà ricostruita con una struttura di acciaio, mattoni e finiture di canapa, che è una tecnologia a cui teniamo molto, che è perfettamente ecocompatibile, riciclabile e consente una qualità di vita all'interno delle strutture veramente ottima, dove appunto la natura e la qualità dell'ossare in natura si ripercuotesse anche nell'ossare all'interno delle nuove strutture che realizzeremo. Come si lavora con un team tutto al femminile? Si lavora molto bene, nonostante tutti ci chiedano se litighiamo, in realtà non è così.